Mi chiamo Maria Luigia Larocca, abito a Sassuolo, ho 29 anni e ho deciso di venire qui a The Voice perché mi è sempre piaciuto cantare, sin da quando avevo 8 anni canto e ho partecipato anche in un altro talent in Italia, amici di Maria De Filippi. Ho sempre avuto questa passione, quindi siccome il mio fidanzato è albanese mi piacerebbe provare anche qui in Albania. Come lavoro sono addetta al punto d'ascolto in un centro commerciale in Italia e mi piacciono tanto gli animali, specialmente i cagnolini, quando ne vedo uno impazzisco praticamente. Spero di passare questa fase del provino perché comunque in Albania ci sono stata già tre volte però ogni volta che vengo è sempre un piacere, mi piace comunque conoscere di più anche le vostre tradizioni e quindi insomma spero che vada tutto bene così da imparare anche meglio la lingua e da conoscere meglio tutti gli albanesi. Al prossimo episodio Sì. Sì 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 Bravo, 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 bravo Perfect Clutam presentò Mi chiamo Maria Luigia Maria? Sì, Maria Maria Luigia Sì Dove sei? Di Sassuolo, provincia di Modo Sassuolo? Sassuolo C'è un voce fantastico grande, mi piace tanto Anche la canzone di Annuk, Nobody's Wife And you brought it in a super, super original way Grazie Gratulation, really Grazie mille Grazie 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 Allora, it's your turn Sono così emozionata Io aspetto qua, va bene, per favore Grazie Io apprezzo tanto il fatto che comunque si sia girata anche Rona Però lui è il mio stile, secondo me Quindi io scelgo Grazie, grazie, grazie Grazie a te Grazie Mi sento Tutta elettrizzata proprio Mi sento Elettrizzata e poi non ho più la salivazione Sì, ma perché hai scelto Giussi e non a Rona? Eh, perché Giussi si è girata subito Eh, per questo E Rona invece l'ho vista un po' più titubante Quindi Anche per questo Giussi può imparare un po' meglio l'italiano con te Sì Ok, grazie in bocca al lupo Grazie 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 Grazie